Benvenuti in un nuovo episodio di Makeup O'Clock, io sono Andrea e nel video di oggi andremo a realizzare un make up particolare perché infatti realizzeremo lo stesso make up da un lato con prodotti tutti economici e dall'altro con prodotti tutti costosi quindi vedremo quale si comporta meglio e vedremo ovviamente quale preferirete voi Oggi andremo a realizzare un make up identico, cercheremo di utilizzare i prodotti più simili possibili che ho trovato Vi dico già che i prezzi che vi dirò saranno simili ma comunque possono variare da rivenditore a rivenditore quindi comunque sappiate che il prezzo si aggira attorno alla cifra un po' più generale comunque cercherò di essere il più preciso possibile Possiamo partire con il primer e vi dico subito che dal lato costoso che sarà questo qua utilizzerò il Toucha The Silk Canvas che io trovo solamente su un sito che si chiama London Loves Beauty e su questo sito io la mini taglia l'ho pagata 40 euro, la mini taglia, quindi la taglia grande viene tipo 65 e dall'altra parte utilizzerò il Revolution Pour Perfecting Primer che è questo qua, sempre in pasta ed viene 7,99€ Quello di Toucha crea veramente una barriera super super forte tra la pelle e il forno tinta e aiuta veramente tanto a levigare la pelle Questo qua di Make Up Revolution è leggermente più liquido, è un pochino meno denso di quello di Toucha quindi ovviamente ha un effetto un po' più, forse anche idratante Sì, sono prodotti molto simili ma quello di Make Up Revolution ovviamente ha una leggera differenza vedete, lascia un effetto anche un po' più luminoso di quello di Toucha Per quanto riguarda il forno tinta, dal lato costoso utilizzeremo questo qua di Nars che è il Natural Radiant Longwear Foundation e viene 47€ sul sito di Sephora mentre dal lato economico utilizzeremo l'Astra Soft Matte che viene 7,90€ L'unica piccola differenza è che quello di Nars è leggermente più idratante e di conseguenza anche un po' più luminoso mentre quello di Astra una volta fissato è totalmente opaco E onestamente anche quello di Astra a livello di coprenza non scherza Un'altra differenza in più è che purtroppo questo qua di Astra ha delle colorazioni leggermente più rosate e meno ricche di questi di qua che invece è praticamente perfetta per la mia pelle Come correttore ho cercato di prendere un correttore che abbia praticamente la stessa texture e la stessa performance Infatti dal lato costoso utilizzeremo l'Urban Decay Stay Naked Concealer che viene 30,50€ sul sito di Sephora e dall'altra parte utilizzeremo il NYX Can't Stop One Stop che viene invece 8,90€ sul sito di NYX Indicativamente hanno tutti e due lo stesso finish ossia un finish super super opaco che si autofissa e che dura per tutta la giornata e soprattutto se avete la pelle grassa e un contronocchi non particolarmente secco Come vedete la coprenza è altissima da entrambi i dati quindi questo fattore è praticamente identico e possiamo procedere con la cipria Dal lato economico utilizzeremo la Brighten Up di Essence che vedete che io ho stra utilizzato e questa viene attorno ai 3-4€ sui siti vari e invece dal lato costoso utilizzeremo la Bye Bye Pours di It Cosmetics che viene invece 34€ circa sul sito di Douglas Devo dirvi la verità io nel mio quotidiano utilizzo molto di più quella di Essence perché mi fa veramente impazzire L'unico difetto che ha quella di Essence è che io preferisco utilizzarla nel contorno occhi perché è leggermente sbiancante in confronto a questa qua di It Cosmetics nonostante io l'abbia applicata anche nel mio contorno del viso in realtà non ha minimamente sbiancato la zona Possiamo procedere con il bronzer per scaldare un po' questo viso e dal lato costoso abbiamo il bronzer di Fenty Beauty questo qua che io ho nella tonalità Coconori e questo viene 30,90€ sul sito di Sephora mentre dalla parte economica utilizzeremo una palette che viene 10,99€ ed è la Throw Shade di Makeup Obsession quindi praticamente avrete per 10,99€ 9 cialde mentre dall'altra parte per 30€ ne avrete una C'è da dire che ovviamente io sono di parte e il bronzer di Fenty è praticamente il mio preferito non posso negarlo quindi comunque io 30€ li spendo perché è fantastico però ovviamente anche questa palette qua è veramente ottima io l'ho già provata molte volte e mi piacciono un sacco le polveri contenute all'interno soprattutto perché c'è un bel bilancio di colorazioni calde e fredde quindi ci sono veramente anche tante disponibilità per tante colorazioni di pelle possiamo procedere con il blush e sono super contento perché qui ho trovato veramente un dupe identico dal lato economico utilizzerò il blush di Wet n Wild nella tonalità Blazing Berry che viene 4,95€ circa mentre dal lato costoso utilizzeremo il blush di Charlotte Tilbury nella tonalità Pillow Talk famosissima e vedete che in realtà sono veramente molto 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 simili e questo viene 40,50€ sul sito di Sephora personalmente come colorazione quello di Charlotte Tilbury sul mio incarnato non mi fa impazzire perché è leggermente troppo chiara per me quello di Wet n Wild invece è leggermente più scuro forse e anche questo comunque è molto luminoso e come colore mi piace leggermente di più quindi ragazzi se non avete 40,50€ da spendere per questo magari questo può essere una buona alternativa ma l'illuminante dal lato economico utilizzerò questo qua sempre di Wet n Wild nella tonalità Bloom Time mentre dall'altra parte utilizzeremo il Extra Dimension Skin Finish di MAC che invece viene sui 30€ anche questo mentre questo come il blush viene sui 4,95€ provo che entrambi abbiano delle formule veramente super sottili e che vadano bene per tutte le pelli non è obbligatorio dover spendere 30€ per partire con l'illuminante e questo qua di Wet n Wild fa tranquillamente il suo dovere e infine prima di passare agli occhi utilizziamo degli spray e dal lato costoso utilizzerò il What It Do di Fenty Beauty che viene 30€ mentre dal lato economico utilizzeremo lo spray Better With Me di NYX che invece viene sui 10€ ok possiamo passare agli occhi e vi dico già che il makeup di oggi sarà un makeup violaceo e berry perché infatti dal lato costoso andremo ad utilizzare la nuovissima Nude Nori di Ura Beauty che viene la bellezza di 67,90€ sul sito di Sephora mentre dalla parte economica utilizzeremo la Astra Cherry Temptation che indicativamente ha qualche tonalità simile a quella di Uda e questa viene 9,90€ sul sito di Astra dal lato di Uda andrò ad utilizzare questo colore qua mentre da quello di Astra andremo ad utilizzare questo qua che è il più scuro come lo è per quella di Uda quella di Uda io l'ho già provata e so che è molto pigmentata ovviamente ragazzi sto cambiando sempre i pennelli beh si sembra che stia applicando comunque molto bene forse quello di Uda è leggermente più violaceo rossastro mentre invece questo qua di Astra è proprio più marrone freddino però indicativamente come colori sono abbastanza simili poi purtroppo non c'è un colore vero e proprio simile per sfumare questo scuro perciò andrò a prendere un mix di questo arancio qua e di questo qua così si crea questa specie di pescato che mi sembra un po' più simile allo schema colori di quella di Astra e dall'altro lato invece andremo ad utilizzare questo colore qua che ho proprio cercato di ricreare con i due colori che ho mixato per Uda questo qua è sicuramente più pescato però indicativamente potrebbe essere simile provo a smorzarlo un po' mischiandolo anche un po' a questo che è un po' più malva forse la sfumabilità dalla parte di Uda è leggermente più facilitata mentre invece dalla parte di Astra è un pochino più complicata però è ovvio ovviamente non stiamo parlando di fasce di prezzo identiche e direi che possiamo passare allo shimmer dalla parte di Uda andrò ad utilizzare questo colore qua che è un rosa metallizzato mentre dalla parte di Astra andrò ad utilizzare questo qua che è sicuramente più pescato però purtroppo è l'unico colore metallizzato che abbiamo e questo qua di Uda è uno dei miei colori preferiti della palette è veramente super metallizzato e i metallizzati di questa palette non scherzano andiamo a vedere invece com'è quello di Astra che è infatti come immaginavo sicuramente più pescato piuttosto che rosa come lui però devo dire che non mi dispiace neanche lui andiamo a prendere questo qua che si chiama Desire da Uda che è un pochino più rossastro mentre da Astra andremo a prendere invece questo colore qua che è anche lui un pochino più rossastro di quello pescato wow guardate quello di Uda quanto è specchiato Uda dal punto di vista degli shimmer in maniera positiva è veramente imbattibile ok sì decisamente più visibile però ragazzi vedete che ovviamente un po' ridifferenza c'è ok sì vedete che i makeup sono leggermente diversi ovviamente al posto di utilizzare l'eyeliner oggi andremo ad utilizzare una matita nera e dalla parte costosa utilizzeremo la Make Up For Ever Aqua Resist Color Pencil mentre dalla parte economica utilizzeremo la Metallic Eyeliner di NYX che viene invece 7,95€ l'unica cosa è che quella di Make Up For Ever è più duratura nel senso che proprio durante l'arco della giornata questa non si sposta perché ha la caratteristica di essere anche waterproof mentre quella di NYX invece è un pochino meno resistente diciamo possiamo costruire i mascara e dal lato economico utilizzeremo il mascara di Astra che tra l'altro è il mio preferito ed è l'Insta Curls e viene 2,90€ sul sito di Astra mentre invece dal lato costoso utilizzeremo il Perversion di Urban Decay che viene invece 30€ sul sito di Sephora e devo dire che mi fanno impazzire entrambi sia quello di Urban Decay che quello di Astra mi piacciono veramente tantissimo sulle mie ciglia quindi non ho un preferito proprio perché adoro entrambi i mascara alla stessa identica maniera passiamo alle sopracciglia prima di passare alle labbra e dalla parte economica utilizzerò il Geisha Brows Gel di Astra che viene 4,90€ mentre dall'altra parte utilizzeremo la famosissima Deep Brow Pomade che viene 25€ di Anastasia Beverly Hills la cosa bella di quello di Astra è che io ce l'ho da praticamente due anni ormai e non si è mai seccato anche se rimane all'aria aperta ragazzi personalmente a me questo prodotto qua non si è mai seccato quindi è rimasto sempre morbido cosa che invece non è successo per quella di Anastasia perché vedete che io adesso la utilizzerò però farò molta fatica perché quella di Anastasia purtroppo si è seccata veramente tanto e passiamo alle labbra dal lato costoso utilizzeremo il famosissimo rossetto di Charlotte Tilbury nella tonalità Pillow Talk 32,90€ mentre dall'altra parte ho cercato di trovare un rossetto il più simile possibile e questo qua è il Push Up Lingerie di NYX che viene invece 9,99€ il rossetto di Charlotte Tilbury è un po' più cremoso mentre quelli di NYX sono super opachi e una volta che sono applicati tempo 5 minuti e sono veramente immobili sembrano quasi dei rossetti liquidi come gloss per terminare andremo ad utilizzare dalla parte costosa questo gloss di Too Faced che è il Rich & Dazzling nella tonalità Pretty Penny che viene 21,50€ mentre dall'altra parte utilizzeremo questo gloss di Revolution Pro che è super 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 brillante e invece questo viene 7,99€ e anche questo qua di Revolution come vedete a luminosità non scherza e siamo giunti quindi alla fine di questo make up vi dico indicativamente il totale vi dico che da questa parte siamo attorno ai 455€ di totale di prodotti mentre da questo lato siamo attorno ai 105€ devo dire che nonostante tutto ci siano qualche differenza devo dire che mi piacciono molto entrambi i lati forse la cosa che mi soddisfa di meno è proprio la differenza tra queste due scimbre nelle palpebre perché purtroppo ho cercato di renderla il più simile possibile ma certe cose non possono essere paragonate completamente fateci sapere quale parte preferite delle due e se avete qualcuno di questo prodotto così ci fate sapere quale avete e quale vi piace di più se non siete ancora istritti al canale mi raccomando iscrivetevi e lasciate un mi piace così ci fate sapere che appunto volete più di questi contenuti noi ci vediamo al prossimo e vi mandiamo un grande bacio ciao! ciao!